Ti posso dire che nel momento in cui stiamo registrando il tempo è così grigio, piove, ci sono i lampi, quindi che POV sia il vostro rifugio? Io ti chiedo, a parte sì, se no, siamo un po', sei pesante balla coi lupi, esatto, solo che noi tremiamo ad ogni lampo. Ascoltami, in quale manifestazione atmosferica ti rivedi di più? Se tu ci pensi, perché tu ogni tanto mi sei da nebbiolina, perché ti capisco, non ti capisco, sei una ragazza prisco, non lo so. Sei tu, io sono, sai che non lo so, sei forse nebbi, sì, sono un po' la nebbia. Sei anche un po' via lattia, io ti faccio un po' anche cosmica. No, due lipa hai visto? No. A proposito, ho annunciato un nuovo singolo, Houdini, no, no, vedo l'ora. E chissà da dove uscirà stavolta Alessandro, da una torta, che ne so, presidente. Lei che mette le chiavi in bocca, io adoro. E rollerblade, amo, vuoi far capire che il tuo baricentro non lo decide nessuno se non tu. L'ora esatta è offerta da Sandro. Bob, il podcast. È quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita. È quando il dobbile ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina. È quella finestra sul mondo dove puoi guardare o essere guardato. È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Sandro. E io sono Lele. E questo... Questo è POV. Il podcast. Ma ancora. Me vi ripete. Ciao Daniele. Ciao amo, come stai? Tutto bene. Tutto a posto? Sì, sì, devo dire. Ste borse? Esatto, quando registriamo dopo delle 18 il mio corpo mi dice ma sei sicuro? Però la mia mente dice vai. Spieghiamo anche meglio. Finché abbiamo registrato sotto i 18 anni perché l'abbiamo fatti da poco. Fino a prima eravamo minorenni quindi adesso ci sentiamo un po' il peso del mondo sulle spalle. Possiamo guidare, bere. Ti posso dire, guardo, non cambia un cazzo. Dai 17 e 18 sei sempre tu. Non sei più la stessa adesso. Allora, di che parliamo? Allora, intanto, siccome domenica parliamo di... è un povero di voi. Esatto. E dove è il mio alcol? Cameriere? Sì, certo. Fai un po' quella cosa dove tu ti avvicini in bicchiere e ci fai sentire come... Allora, tu vuoi di una cosa. Te la lascio dire, vai. Pubblico a casa, io non capisco un cazzo di questa roba ma so solo che qua c'è scritto Zizza e quella che è seduta dietro di voi si chiama Zizi. Esatto. Ha cominciato addirittura a vendere vino? Chi lo sa? Non la ferma nessuno? Dato che papà non aiutava. Ti giuro Ale. Non mi ha chiuscito a te il rumore della tua bocca. Ma tu, cioè, questo è il piacere di ogni diacono. Questo è giusto. Alto che diacono, sei tu che metti una badilata. Allora, io chiedo scusa a tutti quelli che ci stanno guardando perché Zizi che mi viene da Varese dove uno spritz costa quanto il mio affitto qui a Roma ha detto che questo è giusto e letteralmente quello che ti danno quando fa... Provi se è salitappo? Tu sei una cafona che metti... Che metti mezzo litro. Batti. Allora... A proposito che stavamo un attimo per... Rivedi un po' la cantina perché amo boh. Vero, è un po' andato a male. Oggi è una puntata dove mettiamo i nostri guantoni e ci prendiamo a cazzotti in bocca, giusto? Via. Da soli però. Le litigate, le liti. Aiuto. Cioè, un po' quando decidevamo l'argomento pensavo, ma siamo sicuri? Abbiamo litigato. È un po' spinoso. Per l'argomento. Sì. Perché è una lite, esatto. Io e te uniti contro Zizi. Cioè, noi abbiamo fatto fusione e poi siamo andati contro il cattivo. Esatto. Tanto che lei ci teneva tipo i ragazzini sulla testa e noi facciamo con le mani tipo fossimo... Non lo so via. Esatto. Via, basta. Allora, le liti sono un argomento secondo me che ci connota tantissimo come persone. Perché se siamo ciò che abbiamo esperito nel corso della vita, le litigate delle volte ci hanno formati e temprati a tal punto che o sono diventati dei precedenti, per cui ci abbiamo paura talvolta anche a affrontare il prossimo. Perché magari può ricapitare, capito? Metti quella mi riurla come quella matta in centro. E altre volte invece sono proprio dei, come posso dire, dei demoni dai quali fuggiamo. Perché ci sono persone che in generale hanno un tipo di carattere per cui litigare, ma io no. Ma guarda, nonostante io faccia parte di quella categoria, assolutamente poi per quello che ti conosco, penso proprio di poterti includere nel gruppo delle tipe che non vogliono litigare perché sennò che pau. Delle doppie P. 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 Tra l'altro se ci pensi, boh, nel senso che pau di cosa? Io ho proprio paura della performance della lite a volte, cioè proprio il dover dire non mi sta bene questo, questa cosa mi fa male, a me mi mette un po' agitazione, sarà la mia radice un po' così provinciale, ma aspetta, quello che volevo dirti per iniziare le danze era che, cioè, hai già un po' uno stigma nei confronti della litigata, cioè la nostra society e il pensiero educativo, diciamo, parliamo così, generazionale, c'è sempre spiegato e ci hanno un po' messo nella testa che dire, sono arrabbiato per, oppure esternare un sentimento negativo, come la rabbia, che poi non è per forza negativo, ma quello che viene considerato negativo, è una cosa da non fare, perché è scomodo, no? Cioè, nel senso, in una situazione in cui siamo persone, vedere quello smusato, cioè ti viene insegnato di non smusare, capito? nel gruppo, e io dico, come dice Dory, non fare lo scorfolo brontolone, capisci? Però il problema è che noi, come Sari, ci stiamo abituando sempre di più a allontanare il rabbioso e poi diventiamo dei super saian di terzo livello finché non decidiamo di uccidere la persona che ci ha fatto arrabbiare, e allora dico io, litighiamo un po' di più? Cioè, alla fine, no? Non è un po' catartica la lite? Tu non so se hai notato che lo chiamavano quello dei titoli, alle superiori, perché è letteralmente lui. Allora, io ho tre cose da dirti, a parte amo, wow, ti giuro, m'hai illuminato, poi m'hai spento e m'hai rialluminato. Secondo te non dovremmo litigare un po' di più? Cioè, anche di cui in amore non si dovrebbe litigare di più? Tre cose, innanzitutto è ravioso, come ci insegna Shakira, non rabbioso, è ravioso, o raviosa, esatto, se vuoi. Seconda cosa, non ho ancora detto cazzo, sono passati cinque minuti, fammelo dire, cazzo, ok, ti prego, amo, let's break. La terza cosa che ti dico è, ho fatto un esame in realtà di psicologia delle emozioni che mi ha insegnato una cosa che dici tu in questo momento, la rabbia è un'emozione che dipende da tre fattori, sociali, quindi ci sono società orientali e occidentali che ci permettono di sfogarci più o meno, quindi il contesto intorno, la famiglia, perché noi siamo il riflesso di come ci educano e l'attitude personale, quindi ci sono persone che sono più propense alla collera e chi invece che mi ha pochino più zen. Tu il fagiolo zen, mi hai mangiato probabilmente perché amo, tu mi sei di una... è che c'è questo stereotipo cattivo per cui la gente pensa che la rabbia abbia soltanto talvolta è una modalità attiva di mostrarsi e ci sono i passivi aggressivi, cioè io posso arrabbiarmi anche... allora, ho detto passivo, Alessandro, mo... No, 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 Daniele, no, tu sei veramente un mentecatto, quello che ti stavo per dire... Ah, boh, cioè ti giuro su Dio! No, no, io ho fatto così perché qua, cioè questo tavolo è il tavolo dei passivi aggressivi, cioè nel senso se io ti devo far vedere che sono rabbioso, come direbbe Shakira, io non ti parlo, io pure ti dico, ce l'hai con me? No! Ecco, dare del mentecatto a qualcuno non è proprio passivo aggressivo, che si sappia, cioè nel senso, mo, non per dire... Mentegatto, cos'hai capito? Ah, sei marchigiana pure tu, mo? Mentegatto? Ah, e mele gatti invece, ci mangiamo un pan d'oro e... Tu non sei passivo aggressivo, cioè mi stai dicendo questa cosa? Io amo, in realtà, e ti voglio sfoggiare il tatuaggio che io ho qui, che per chi lo sta vedendo è un diapason, io non sono passivo aggressivo, io tendo a modularmi in funzione dell'interlocutore, io sono una persona che vive molto a specchio, cioè se tu ti porgi con me nella maniera più cristallina possibile, tu fai uscire il lato di me più umano e bello che ci sia, se tu mi vai davanti puntandomi ai piedi, me devi beccare, o che ho talmente tante energie per poter contenere il tuo tsunami, altrimenti amo, arriva il monzone, e te lo giuro su Dio che fa male, perché... Direbbe le toccatelle, dici? Eh, esatto, ecco... Non è monzone... Oltretutto hai pure un po' spoderato, che potremmo essere un po' più di borse sotto agli occhi, asco dopo, e... nel senso, tu invece, come... che spettro dell'aggressività mi sei? Mi sei più attivo, più passivo, più versatile in questo senso? Allora, vedi, poi non è mente gatto, cosa devo fare? No, il discorso è questo, io sono un po' cambiato riguardo alla rabbia. Ok, tu già esami, tu mi parli di un cambiamento di te stessa. Palese, perché me adolescente era, piuttosto che farmi vedere arrabbiato, mi faccio del male, una cosa del genere, quindi probabilmente ci sono persone della mia vita, tipo che ne so, ai miei compagni di scuola delle medie, ripeto, che non mi hanno mai visto arrabbiato, credo. Perché, no, non si provo, la rabbia... no, grazie. Crescendo, soprattutto ultima... parlo proprio ultimamente, saranno 3-4 anni, questa cosa un po' l'ho somatizzata, io un po' ho percepito la sensazione di sollievo post-rabbia. Ok. Perché, diciamocelo, se ti incazzi, a un certo punto sfoghi quello, il problema principale, che magari non si risolve, però il fatto di essere sbottato con una persona fidata, magari non per forza una lite accesa, però sai quel momento in cui ti rode il culo e tu vuoi solo che ti venga rosso il culo, capito? Non deve succedere nient'altro. E questa cosa l'ho imparata ad accettare, però da più grande, cioè praticamente ero adulto, e ti posso dire, a mio figlio direi, amo, arrabbiati, incazzati. Ah, ma è la prima volta che citi il tuo essere madre un giorno? Beh, ma piangere. Ma finalmente era ora, ti giuro, questo istinto materno che c'hai ogni volta. Ma non sai che parlavo di gatti, in realtà, cioè... Anche più di uno. E tornano io, cioè... E se... miau. Quindi ecco, in realtà ti dico, aggressivo, in realtà non troppo, perché non posso esserlo, cioè capisci, se parto da quelle basi, quando divento aggressivo in una lite, però ultimamente mi sto dicendo un po' di più, tiro del culo, manifestalo. Cioè, lo puoi dire con le giuste modalità, infatti quando... Voi dovete vedere noi due un po' arrabbiati, quando siamo un po' arrabbiose... Esce il sangue dalle pareti. Sì, esatto. Non può essere il nostro sanguine all'intorno. Ti posso dire, la cosa è così strana, quando succede, che entrambi cambiamo e cominciamo tutti e due un po' a manifestare questo cambiamento. Ah, no, tu vai in falsetto. E beh, Dani! Daniele! Non lo so. Tu sai che ho pensato un sacco a questa cosa, sai, io nel corso della mia vita, io ero il ragazzino a cui dicevano sempre, mi sa che l'ho già detto una volta, se non impari sempre a non andare in scandescenza, non vai per maloso, eccetera, tu schiaffi di qua e di là, c'è di pifing, non campi. Nel corso della vita ho un po' dovuto imparare a non prendermela subito e non per forza utilizzare la rabbia come via di uscita per sfogare ciò che io provo, perché è vero che quando siamo abituati a tenercela tanto, quelle poche volte che lo facciamo, release, altro che... Io veramente, cioè, a un certo punto avevo pensato, cazzo, è così che ci si sente, capito? Però poi talvolta, secondo me, la esplodiamo nella maniera sbagliata, perché poi quando tendiamo ad essere accumulatori di rabbia come noi, non possiamo metterci dietro. È presente le persone che cercano di comportarsi sempre al meglio possibile e si lamentano quando compiono per una volta uno sbaglio e dicono però me lo si può perdonare. No, amo, perché il fatto che tu non sbagli mai non è per forza sintomo del fatto che tu debba essere perdonato a più di se lo fai una volta e nel caso più grande ci sono atti dove l'essere umano si sporca le mani per atti brutti. Sì, sì, sì. Cioè, il fatto di non farlo mai, cioè, poi dipende, c'è malizia o meno, perché c'è gente che non le fa mai le cose e se le fa con l'intenzione di farla perché dice, oh, incazzate con me se è una volta che lo faccio. Poi sta cosa vale da tutti i tuoi lati, cioè, sia il fatto che se non l'ho mai fatto lo faccio per una volta per perdonarmi, non vale anche come se lo fanno tutti lo posso fare anch'io. Cioè, capito, se stai in un ambiente in cui tutti sbroccano e tu fai la matta una volta e tu dici, beh, sbroccano tutti perché non posso farlo anch'io. Eh, però, però lì al massimo quello che io voglio è il, la persona che sbrocca quella tantum o comunque riconoscere di avere sbagliato e dalle persone che sono intorno deve esserci questo ragionamento. Non è da te che deve venire il, siccome non sbrocco mai mi lo posso permettere, è le persone intorno a te che dicono, cazzo, Alessandro non sbrocca mai, forse c'è una chiave diversa nel tradurre il perché sta sbroccando, non è che ci vuole fare del male X, non lo fa mai, ma se viene da te è presuntuoso, pare che tu ti permetti di dire, oggi manda a fanculo il mondo, perché sì, dai. Ok, capisco, sì, sì, sì. Che brutta cosa. Ma a te cosa ti, cioè, pensandoci così, cosa ti fa arrabbiare? Cioè, in una relazione umana, cioè tipo sei tu e Zizi, comunque una relazione umana. Vai, la telefono. Esatto, tipo a Zizi, se tu la chiami col suo vero nome, Carmelo, la impazzisce, cioè se la misgenderi. Capito, ci sono delle cose che non vanno, quali sono le cose che non vanno con te? Cioè, hai mai pensato? Io sono apertissima al dialogo, tu mi puoi puntare, contare il dito quante volte vuoi. Cioè, penso che se sono la persona che mi ti viene a sede e mi dici, da, ho sofferto per quello che tu hai fatto per questo e questo motivo, uno mi mette a piangere, perché tu hai sofferto a causa mia. Quindi non è possibile. Seconda cosa ti dico, oi, grazie di avermelo detto, cerchiamo di capire, ma se tu cerchi di farmi sentire sbagliato per determinate cose che io ho fatto, con o senza malizia, quindi cerchi di farmi sentire intorto, non perché vuoi costruire un rapporto migliore in seguito al mio sbaglio, ma perché semplicemente tu mi vuoi far del male, lì ti dico no, la cattiveria gratuita è la cosa che più mi fa incazzare. Tu critiche costruttive, c'hai capito? Sei quello da commento, secondo me dovete migliorare questo, ma non che schifo questo. Ma, a totale, però non è che io poi voglio fare il samaritano che so quello che non dice mai una malalingua. Cioè, ho fatto un podcast sul fatto che mi faccia una sola malalingua. Ah sì, è vero. È soltanto che poi mi dà fastidio quando lì per lì fai, ma lo dico per il tuo bene, amo. Strozzate. Vero? Sincero? Sì, sì. A te invece cos'è che ti manda più in escandescenza? L'ipocrisia della gente, direbbe una volta. La falsità. Della gente, esatto. Cos'è che ti dà fastidio? Cos'è che ti fa incazzare? Anzi, cos'è che ti mette più di tutte nella situazione di ammalitica TikTok? Ammalitica fatto buono. Ammalitica. Ammalitica. No, allora, sai che non lo so? Perché allora, da una parte in generale quando... No, un po' ce l'ho. Hai presente un po' il frutto del bullismo subito con gli anni? Eccoci qua, ho detto la parolina magica. Anni? Bullismo. Intendo, sai quando in una conversazione c'è sempre quel tipo di, non per forza un argomento, ma un tono, atto a sminuire in qualche modo il fatto, cioè, di porti da scemo. Cioè a me mi dà fastidio quando mi fai passare a scemo, capito? Io l'ho detto che la voglio fuori da qua. È trattare con sussiego, quindi quando la gente fa il maestrino con te e ti tratta come se fossi uno scemo. Esatto. Il maestrino mi mette un po' in difficoltà. Poi a volte non dico niente, c'è un senso che finisce lì, però dico... Oppure a volte, cioè questo ultimamente, il buonismo è quello troppo accentuato. Cioè quando mi... Quando proprio vogliamo in una condizione... Nel senso che se stiamo parlando di un fatto che sull'idea magari va in un lato, ma poi nella vita vera va dall'altro, e tu mi dici, no, comunque io si credo. Non ci devi credere per un cazzo, perché non è così, capito? Cioè nel senso... Uno, due, tre cazzi, nessun cazzo. E quello, quando si accentua il lato ideologico di un fatto, di un qualsiasi tipo di argomento, e viene un po' esclusa l'esperienza, al punto in cui mi nieghi il fatto che poi l'esperienza ti dà il contrario, lì mi gira un po' lo Zebedeo. Allora... Cioè ti comincio a dire... Zeus, non sono d'accordo. Posso chiamarti Zebedeo? E innanzitutto versemi un altro po' da bere, Zebedea. Amica mia è di Medea. Avevano smesso di dirci che beviamo troppo, e adesso di cominciare a... Ah no, veramente me ne è servito una quantità che ho capito che è vino rosso, ma servimelo, vero. E dai, sai cos'è, Cosco, mi hai un attimo illuminato, sai cos'è una cosa che mi manda in escandescenza? Il sentirmi dare del bugiardo. Mi spiego. Ho detto che sono performer, quindi nella conversazione io ti dico, c'era un vento assurdo che io e Zizi stavamo a faccia a terra, magari era una frescura. Però in quel momento mi serve che tu percepisci comunicazione emotiva. Ma, se Zizi... O Zizi... Parla con una persona che gli fa... Lo sai che Lele ti ha detto questo alle spalle? E Zizi viene da me, e la prima cosa che mi dice è, tu mi hai detto questo, e non mi porge la cosa come un, oi, ma lo sai che mi è arrivata questa voce? Mi puoi dire un attimo se è vero o no che succede? Lì io parto con... A parte che io per spedio ti faccio, se è vero. Magari non è vero, eh. Ma se è vero. Quindi mi stai dicendo che ti fa più rabbia, Zizi, piuttosto che la terza persona. No, 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 perché è un esempio? Non perché Zizi veramente... Mi fa rabbia il fatto che le persone talvolta ti dicono che ti vogliono bene e poi ti tolgono una delle cose che per me in amicizia è fondamentale, il beneficio del dubbio. Ah, ah, ok, bene. Non è la fiducia. La fiducia del beneficio del dubbio, cioè nel senso, dammi almeno modo, cioè... A bruciapelo, tu ti fidi di Zizi? Sì, a bruciapelo, tu ti fidi di Zizi? Bruciapelo. Amo, che bru... Amo, questo non è un pelo, questo è incarnito, altro che pelo. Certo, certo. E senti, se volessimo... Certo, certo, sei diventata la strega cattiva dei King Disney. Certo. Dei no. Certo. Ti ricordi che ha detto l'unica cosa? Io quando metto, alzo un pochino la voce. Ti piace? Sì, dai. Carino il top. Diventa chiaro a parte. Sì, ottimo. E anche un po' Barbixanax. Madonna, ma chi cazzo ti ha dato fuori? Oggi proviamo le patatine al gusto. Cazzo. E, ascoltami, l'eliti, se volessimo renderlo un subject... Le possiamo dividere un po' in categorie, no? Le possiamo dividere in categorie, ma l'abbiamo pensato insieme o siamo a leggere uno script? Uno script. Lasciamo il mistero. misteri affini. Le liti, in realtà, potremmo dividerle in base al ruolo, il pov, che noi abbiamo... Ma a feri, ma devi stare... Ale, dai, dobbiamo di un podcast. Non c'era scritto. Le liti possono essere divise in base al pov che noi abbiamo in questa lite. C'è il pov di uno che vede una persona che ti si scaglia contro. Quindi, liti subite. Sì. il pov dei tuoi occhi che hanno una soggettiva verso la persona che sta per ricevere il tuo odio, quindi liti accese. pensavo, invece la mia preferita è quando tu la vedi succedere. Posso di... Raga. Cioè, noi siamo attorno a questo... Attorno a questo tavolo, noi siamo qui e aspettiamo solo che le liti accadano davanti a noi. Palese, le nostre preferite qua attorno, per forza le liti che vediamo succedere. Il fatto è il drama, secondo me, il discorso principale. Perché questo? Perché noi abbiamo quell'istinto un po' materno del prendere la mano di uno e dell'altro e andiamo, andiamo seduti e mi... Allora, mi spieghi che cosa è successo, che cosa ti ha fatto e ora ne parliamo. Però è anche vero che Ale, noi parliamo anche di questa cosa e io la voglio dire, noi siamo palesemente i tipi che amano assistere perché io, te e Peppe siamo testimoni di una delle liti dove siamo dovuti andare via perché te siamo le comande che vogliono guardare e gli altri talvolta non vogliono essere immischiati. Perché parliamo di questa lite dove eravamo a Coglianiene, dove si abitava in precedenza. A Roma. A Roma, nel senso che non ti piace, amo, è veramente grande Roma. No, no, nel senso che le persone non sanno magari dove è Coglianiene. Apocalittica, veramente con le crisi di persecuzione. E che succede? Stavamo al nostro tipico bar, il bar solito e a un certo punto mentre chiacchieriamo, Non l'ho capito. Un bar che ha vetrate, a un certo punto noi vediamo una di queste vetrate infrangersi in 12.000 pezzi e una donna cadere dall'altra parte. Ma raga, Fast and Furious, nel senso Tekken 7, non so, Mortal Kombat, quelle robe lì. Da dentro, da dentro questo bar una donna cade spaccando il muro, da dentro cadendo fuori. Il muro si infrange in mille pezzi. Hai presente un video musicale i primi 2000 MTV? Un po' catchy di una canzone rock? Eccoci. Quello che non suonava nessuno. Crank It Up di Ashley Teasley. Sapevo che ce n'era uno, non mi veniva in mente ma sapevo che ce n'era. Puoi sempre contare su di me. Qualcuno di April, super. Esatto, sì, sì, sì. O anche 32nd to Mars, quelle cose lì. Che cosa è successo? Noi stavamo lì tutti quanti presenti e alla vista di questo episodio, di questo atto un po' violento, un po' vetroso, e noi ci alziamo e alziamo le nostre antenne della paesana mentre l'amica romana che era con noi ha fatto io me ne voglio andare che è quello pericolo. Si è creata questa situazione io e Daniele allora se una persona viene buttata fuori da una vetrata al punto che fa il rumore proprio di non è stata una cosa tipo incidente? No, no, no. Abbiamo capito che era frutto di una lite questa cosa si era capito dal contesto adesso e noi io e Daniele ovviamente come con l'ambulanza corri a vedere capisci? Cioè almeno devi capire non vogliamo Alessandro Ripermione che c'ha la borsa estendibile ha fatto caccio, caccio le crocerossine amo non ci possiamo vestire qua non siamo se l'ormone che si cambia in tre secondi e invece Giuseppe ci continuava a dire no ragazzi andiamocene e ma tipo te ne aveva e strattonava un pochetti dicendo andiamoci io e Daniele no, no, no amo aspetta un attimo e la fortuna nostra è che essendo iperlogorroici avevamo degli agganci molto interni a quel posto ossia la cameriera la cameriera sì, la barista che cosa è successo il giorno dopo ci ha raccontato che la lite è venuta perché la ragazza in questione che noi conoscevamo la cameriera la cassiera no, la cameriera come cazzo ma perché mi sono fatti i problemi aveva preso 20 euro che aveva scoperto la titolare essere falsi da una donna che era solita fare la colazione lì un cliente un abitue capito un cliente fisso no, no che cosa è successo aspetta che cosa è successo questa signora la titolare vede questi 20 euro e fa alla nostra amica che lavorava lì amo non di preoccupare dammi questi soldi che ci penso io questa signora è ritornata lo stesso giorno che noi eravamo lì presenti e per cambiare dei soldi la titolare la stava appuntà gli ha ritratto questi 20 euro falsi e la titolare l'hai messi nel resto capito? me l'hai dati tu te li ridò c'è questa l'idea la titolare è una grande peccato che la tipa che ha dato questi soldi falsi fa questi non li voglio sono falsi e la titolare lo so me l'hai dati tu? amo uno, due, tre colluttazione la titolare prende e tira giù contro il muro di vetro la tipa e noi vediamo questa scena ma perché la tipa allora diciamo che perché è coglianiene amo è il distinto delle hai pensato? questa storia poi andrebbe condita di qualche dettaglio riguardo la proprietaria e riguardo la cliente ma non andiamo oltre no perché dovremmo colorire la persona di aggettivi esatto ma io voglio sapere solo una cosa rinunciassi o no? no non credo c'è hai capito? amo tu non hai capito è successo questa cosa noi siamo praticamente scappati perché ci sentivamo un po' in pericolo attorno ai vetri quindi abbiamo detto ok andiamo non so cosa abbiamo fatto siamo scappati siamo stati trascinati via da Peppe noi volevamo stare lì con due occhi sbarrati tipo siamo andati via e poi siamo ripassati lì perché abbiamo fatto tipo un giro poi alla fine non siamo tornati a casa proprio e ripassando davanti perché noi cosa facciamo? ripassiamo davanti piuttosto il giro e passiamo davanti e ritroviamo tutti quanti proprietaria marito cameriera tutti seduti di fuori con le loro sediole di plastica vetrata distrutta cioè proprio situazione cinema 3D loro nel chill ragazzi ma ci siamo? si capito? qui gli altri che denuncia aperitivo capito? e la cosa bella è che eravamo in lì in quel momento e ti giuro amo io mi sarei fatto incatenare lì tipo la gente che protesta appena politica ti giuro tu mi stai raccontando il perché stai male in questi periodi scusa ma Daniele però ti posso dire nel bene e nel male tu sei lì a guardare nel senso no non voglio darti il guardone però c'è nel senso c'è la lite tu mi vai a guardare passa il tipo bello tu mi chiami e mi dici io non ho capito quindi ti posso dire per spessare una lancia a tuo favore tu guardi a prescindere dalla natura allora potrebbe essere un guardone però non è no ma guarda esatto guarda come mi riscrive bene osservatore mi piace anche perché io una cosa sono chiamato l'ambulanza uno perché fuori dalla casa mia sono visto però vedi sei una guardona sei una verne chiara amica mia te chiamo l'ambulana nel senso vedi ci abbiamo provato ci abbiamo provato anche stavolta ma poi per me il comportamento migliore quello cioè l'amica gay cosa fa quando succede la lite fra la tua migliore amica e il fidanzato cosa succede cerca di fare la facciona esatto intanto ti ha lei tu sei pro tua amica lui ha tutte le ragioni del mondo beh amo stronzo ok vero spiegami cioè comunque si prende le parti della migliore amica almeno nel momento iniziale della lite nel senso quando all'inizio io sono con te amore per sempre comunque dovunque il giorno dopo ora si chiedi se non è matta esatto però in privato sempre c'è il momento del falò il confronto e cosa succede davanti a lui comunque si dai ragione pure a lui cioè noi le vipere si aprono in due e danno comunque un po' ragione anche al fidanzato perché pubblicità e facevo eccoci qui e nel senso per dire una borraccia rapa e quindi capisco il senso del mettersi in mezzo a conversazioni tra fidanzati dove tu dici ehi ti va una bibita li aiuto cioè non ci metto in una situazione finché sei ci sta finché sei spettatore stranio nel senso che viene coinvolto dalle parti è divertente ma se sei lì e sei emotivo pao mi ritiro allora diciamo che ero abbastanza confidente con la coppia per potermelo permettere però in generale diciamo che è sempre un po' particolare buttarsi in mezzo o farsi buttare in mezzo a analite di fidanzati tra moglie e marito non mettere il dito questa è l'unica cosa che ce l'ha insegnato e poi citando sempre la Zizi una delle cose che comunque io almeno ho un master degree è un po' la zizzania cioè mettere buttarla lì con divertimento ragazzi non mi potete dire che sono cattivo amo sono cattivo ti racconto questa io al centro estivo da ragazzino avevo fatto amicizia con un mio amico che era particolarmente litigioso e io sapevo che lui era abbastanza litigioso con le persone un carattere un po' un po' burberino ma per ridere o proprio per burberino non è che ti metti le mani addosso e fai il bulldozer però nel senso diciamo che era abbastanza irascibile ma addicted tu litigata e mi ricordo che quando magari io venivo un pochino preso in giro eccetera nascondevo la sua borraccia dentro la borsa della persona che mi ha dato fastidio e poi facevo ma mi sa che te l'ha rubata lui Daniele no ma scusa no cioè io io non scusa posso dire ognuno le sue armi bravo io spero che se ci fosse una guerra potrei essere uno stratega io mi offro volontario o Stefano mi ha detto noi non andiamo a fai militari ci mangiamo i pezzi di coton viocco così non ci prendono io e te guardaci io ho fatto amore ma neanche così froci voglio dire una pistolata la posse non dico la lancerò mai però Daniele mi butto dalle scale mi frega niente non mi avrei ah mi sono fatto male secondo me basta che fai all'ambulanza e sicuramente ti fanno salire posso dire e sai invece tu quando sei costretto a litigare come ti comporti cioè quando c'è qualcuno che invece ti prende e ti dice Ale a me non mi interessa la tua vita in questo momento come sta andando io voglio proprio litigare con te tu che fai cioè come ti poni come mi pongo intanto i contesti sono sempre la cosa prima da indagare ti dico se vedo che è per partito preso un po' mi cioè non tendo a prendermela sul personale una delle cose che mi ha insegnato la vita della provincia è non prendere le cose troppo sul personale e questo un po' lo posso dire cioè nel senso dopo un po' capisci che vai lascia scorrere e se fosse una mail qui c'è scritto personalmente Ale per farti capire quanto lui le cose personalmente non le prende questo te lo posso un pochetto posso dire ho masterato questa capacità però poi se vedo stilità totale amo let's dance che te devo dire a secondo che faresti tu? dipende perché tu sai il famoso stereotipo nella vita esistono due tipi di persone chi innesca e chi disinnesca io sono molto disinnescatore cioè nel senso forse io no voi innescate io da faccio quelle litigate allora quando litighi con me inizia questa sorta di dialogo a due infinito in cui non c'è conclusione quindi a un certo punto se c'è un po' molta confidenza fra noi non è che ci rifacciamo le cose però oltre a rifacciarci le cose a un certo punto si perde anche il senso della litigata a un certo punto ma anche il motivo principale capita che io me lo dimentico proprio entro in quel mood in cui ti devo un po' sabotare tu mi devi un po' sabotare ci diamo un po' contro poi a un certo punto dico oh basta basta ok c'è capito fine sì però tu sei anche un po' da da litigata pazzerella tirata fuori dal caso perché ogni tanto è successo anche tra me e te che come vale tutto è bene che ne pensi dei pancake ce l'ho un po' con te scusami no aspetta non ho capito cioè tu sei anche un po' da oggi voglio fare questo questo litigare e se tu capiti nel giorno del litigare tu te la ficchi nel culo a me è capitato con te che è tutto a posto che facciamo oggi non mi è piaciuta sta cosa allora è successo di recente poi e la sua risposta è stata no 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 aspetta ma come ci siamo arrivati è tutto questo che cazzo sta succedendo perché stiamo litigando io e te adesso che poi mi vai litigando insomma vabbè amo per passivi e aggressivi come noi già dire quello che pensiamo è davanti al telefono col messaggio invio ti chiamo c'è capito traintendiamo i toni per messaggio che se io ti voglio di una cosa tu mi fai però mi hai detto con un tono aggressivo che cosa buongiorno totale infatti guarda quando c'è la miccia della litigata spegnere whatsapp cioè la base perché lì veramente si creano i mostri questo è tu ti senti più la miccia della litigata o la miccia della litigata la miccia totale perché tu mi fai un po' le fusa quando sai che sei in pericolo e fai chissà se lui è distratto mille gattini sotto e invece un'ultima cosa che ti chiedo è quando tu invece mi devi litigare a meno che lo so che stiamo a generalizzare nel senso in un momento x della tua vita dove non c'è qualcosa che veramente tu pi e sbotta o magari sei un tipo che sbotta hai detto di no quindi perché chiedertelo qual è il tuo modo superandi con il quale solitamente litighi questo sono curioso cioè qual è il tuo pattern perché noi abbiamo detto da osservatore da subite da io sono una merda cioè nel senso probabilmente uso quella cosa che a me darebbe molto fastidio ricevere faccio un po' schifo cioè se litighiamo io tiro fuori il lessico forbito no 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 capito no forbito cioè nel senso ti comincio a fare allora secondo questa linea di pensiero cioè capito non è che ti venga di oh testa di caccia non è che ti insulto male uso un po' di retorica l'interlocutore è già annoiato mentre litiga però capito gli devi portare davanti le prove concrete che ha torto cioè secondo me la cosa principale è tipo è proprio la ringa dell'avvocato il giudice però non esiste in questo caso e tu stai lì e dici allora capiamo perché se tu fai così allora io cioè è tutto molto logico nel mio modo cioè sono logico nel modo di litigare ok e poi condisco con qualche magari pepetto in più ogni tanto dell'Himalaya magari così quello è il sale il sale rosa totale però ecco di base ti dico non sono il tipo che ti offende gratuitamente ma ti ci porto all'offesa ok allora io forse sono molto da non nominare mia madre mai perché a me se mi tocchi sulla difensiva e per me la family ha anche persone le quali voglio particolarmente bene e che sono nel mio range lui sulla difensiva però io guarda forse spendo tantissime energie per litigare sai perché perché litigare con me è un experience io creo un setting ti siedi tesoro ti offro una cosa e una cosa dobbiamo parlare facciamo una cosa hai capito ti metti a sedere ma che hai il conto alla fine si si ti giro un'amica che ne so ti faccio una cosa poi ti metto e ti faccio no dobbiamo fare una chiacchiera e ti rido creiamo un mondo simpatico e l'altro intanto che ha paura che fa ma che succede e io no ma fai una cosa e mi sono sendito quindi ti esibisci pure litigando si mammo è che io io ho questo grande problema io ho il problema di voler controllare le emozioni altrui cioè per me una dialettica forbita è se nella mia testa abbastanza per impedire all'altro di offendersi nel momento in cui io anche con mille giri di parole posso imbastire un discorso per cui ti sto dicendo il perché tu mi hai fatto un torto però ti dico anche nel sottotestito non ti offende perché io ho speso settimane per capire come fare il cazzo di giro di parole ok si 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 è una cosa tossica perché dall'altra parte mi sono spesso scontrato quando questo plan veniva preso strappato dall'altro che diceva amo grazie mille che hai fatto questo teatrino alla Maurizio Costanzo mi lo del culo e mo ti becchi la litigata comunque te posso dire un livello di autocritica non è indifferente cioè sembra che ci stiamo autopsicanalizzando capisci e chissà quanti si rivedono in questi pattern e che paura soprattutto raga perché sentire da fuori che paura voi retoriche o voi offenderecce chi siete voi e soprattutto voi siete vi piace guardare vi piace accendere o vi piace subire vi piace subire a chi le piace subire bene effetti magari un po' sotto le lenzuola però sai quella cosa tipo che cerchi la punizione che ne sai tipo gli assassini che un po' cercano di essere vogliono essere catturati alla fine vogliono essere scoperti amo io ti vedo te rapita da Chris Hemsworth Stoccolma dopo due minuti no no dai sono un po' basta lasciamo spazio a chi conta veramente questo podcast che non sono io non è Daniele non è Zizi ma voi e io direi che prima di passare a voi ci facciamo un break sì pubblicità pubblicità anzi reclam adoro ma Lele ti posso fare una domanda? ma Sandro dimmi tutto se tu dovessi associarmi a un po' derap secondo te io quale gusto sarei? allora dipende dalla situazione in cui ti devo immaginare perché se ti pensassi ad esempio in palestra con il tuo personal trainer mentre mi fai la tua aerobica mattutina ti direi un unico gusto virgin mojito vabbè ma io dico più in generale dai cioè ascoltami secondo te io sono più uno smoothie alla pesca bianca o lo use rosemary? Sandro per le freddure che lanci forse fragola balsamica è il gusto che fa per te ma che poi alla fine mi piace pure ma che ti lascia una frescura ma sì così un po' sofisticato piacevolissima che poi se ci pensi comunque quello che bevi da Air Up è acqua no? ma certo che è acqua è il nostro cervello che percepisce l'odore come se fosse sapore e cioè? cioè che l'acqua all'interno di Air Up viene percepita attraverso il nostro olfatto retronasale ma top ma dove trovo di più? se vi interessa di più andate sul sito air-up.com e con il codice sconto pop-up avrete il 10% su tutto quanto fino al 6 novembre rinfrescante eccoci esatto un sapore e un gusto nuovo sia noi che voi ma è è il momento della nostra rubrica del nostro momento un pochino più ma no del loro momento del vostro caso di momento noi semplicemente leggiamo e l'altra volta abbiamo anche dimostrato che dovremmo tornare a farlo più spesso vero ci dobbiamo esercitare sulla lettura e non è il fatto che non abbiamo mai visto sta roba noi quindi è un po' difficile la lettura proprio a primo sguardo no? tu dici non è dislessia e mancanza di conoscenza pregressa ognuno fa quello che può andiamo al jingle? via jingle jingle poveri voi Ale ma tutto bene ma perché mi giri qua ma che fai? no non ti permettere era storto è fatto per non sentire il verbero ti ha lessato ti giuro ti spacco allora questo è un poveri voi e diciamo che dato che le litigate noi abbiamo detto che siamo soliti affrontarle con la retorica si ci ha preso a cazzotti ci ha detto grazie a cazzotti giusto esatto quindi un po' malmenate un po' si vedono? è statuale si vedono i tagli Ale ha detto qual è il modo più aggressivo per farti capire che sono una lince ti graffio allora vi abbiamo chiesto sulle storie come sempre un po' la vostra storia il vostro aneddoto legato alle liti e diciamo che ci è arrivato molto materiale questa volta abbiamo scelto un po' anzi ci hanno scelto perché noi non so se non so se lo abbiamo mai spiegato bene ma noi in realtà non leggiamo mai le storie cioè noi quello che sentite quello che vedete è la nostra reazione prima alle storie che ci scrivete quindi la Zizi e la Marti ci hanno scelto delle storie per noi di tutte quelle che ci avete mandato esatto e noi siamo qui e le leggiamo allora che fai? cominci tu? fai tu? vai 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 cioè non so se non so se questo è il nome della persona o il titolo ma è il suo nome e io sto vivendo perché si chiama proprio come Daniele la serpe esatto soltanto non taurino di cognome amerei comunque serpe taurino questa ve la devo raccontare punto ero in discoteca dopo una rottura con un ragazzo d'oro ma che vi giuro mi annoiava un casino praticamente la storia di tutti noi totale io un po' troppo tornado e lui un po' troppo nonno che vaga tra i musei ok mi piace un po' climatica un po' culto un po' antropomorfa premessa che ci fa calare nel personaggio così cercavo un po' di vita molesta tra la gentaccia in discoteca e vedo lui aspetta poi lui ce l'ha scritto ma amo lui ti è mai capitato in discoteca che fai quei contact e dici io non so se tu mi ami ma io forse si di solito è perché è di spalle poi si gira e ha tipo i denti sporchi di cioccolato però finché è di spalle voglio dire un riccio moro sbarazzino con un sorriso che vi giuro vi spammerai il profilo per farvi capire l'intensità di quegli occhi ma ovviamente chi mi si caga amo top il suo amico ubriaco è alquanto il suo amico era ubriaco alquanto molesto però quando c'ha scritto per farvi capire l'intensità di quegli occhi visto da quegli occhi solo da un racconto la serpe usa le parole per immergerci nell'atmosfera non è solo veleno quello che sputa finisce che in qualche modo balliamo tutti e tre quindi lui e lei insomma la serpe quest'altro e l'amico molesto che è l'amico del tipo che gli piace esatto ok e già la mia mente da cortigiana vagava amo totale amo tu altro che le corti tu i castelli vai tutto ma poi il mio bello lo chiamerà così se ne va fuori a prendere l'aria e il tatuato ubriaco che mi corteggiava resta a ballare con me quindi c'è una separazione ti posso dire una cosa io mi sa che io sono stato la persona che si è preso per il migliore amico del tipo che con il quale mi hanno dato un date a una serata aspetta però aspetta perché qua c'è un'evoluzione vai sì infatti le premesse sono le migliori non per una litte vediamo siccome ormai avevo puntato la mia preda insegue il mio bello fuori e con qualche discorsetto allusivo e tramite l'arte della seduzione lo convinco ad andarcene in macchina io l'avevo fatto un po' cosci vai e tricchetta che facciamo quello che dovevamo fare comunque tutti i nostri poveri voi alla fine c'è un consumo si scambiano le carte di pokemon adoro si scambiano le carte di pokemon sembrava un sogno lui bellissimo e ad una certa si mette a piangere dicendo che si era appena lasciato con l'ex partita per studiare io sono la serpe magari me la fai calare tutta però così dipende posso ditte perché se sei un po' crocerossina come me se ti metti a piangere dopo ti faccio amore ma che succede però questa cosa con l'amica che piange in bagno sempre nella stessa discoteca col fidanzato no cioè il trauma me ne parli dopo un po' l'amica che io non ti conosco e ci conosciamo per sbaglio no oddio non ti merita però perché devo fare devo essere supportivo perché per il tuo dolore col fidanzato cioè con lover però ti posso dire una cosa un po' brutta però sono sincero se me lo fai post coito forse non mi interessa è capito esatto ok 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 però aspetta se me lo fai precoito io sono letteralmente ero la preda però post coito mangia ragione che cazzo mi trombi totale però riconoscete nel senso se uno precoito ti fettidicesse un po' no sai sto un po' male amore parlamini ehi che succede ok 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 volevo solo capire se eravamo ragasce che approfittavano di una situazione ragazzi ognuno si salva da solo ci sta serata infatti il mood è serata rovinata torniamo a prenderci un panino fuori dalla discoteca dal carretto abusivo di turno riunendoci ai suoi amici compreso l'ubriaco tatuato che scopro essere il suo bestie posso dire però la serpe hai ancora uno stomaco top che io il panino post serata non me lo posso più perdere altrimenti non vado a dormire noi facciamo finta di non essere stati assieme per evitare di fare casini con persone viste una sera a te non emozionano queste cose cioè tipo non devi di che io so che abbiamo fatto gli amici che ci guardano e tu che fai che è un socchiotto che poi raga è una puntata è una puntata del scam praticamente in tutto questo la macchina del tatuato era del tatuato ce l'hanno trombata nella macchina del tizio senza puoi dire che l'hanno fatto veramente nel senso in mente ricordiamo il tipo ci provava con lei cioè l'amico del tipo che le si è trombata intanto stava corteggiando lei lui la serpe insomma serpe noi viviamo per te allora post serata la serata finisce vanno tutti a dorm no in realtà non dormono ancora post serata mi scrive il tatuato da lì parliamo per giorni mi corteggia manco fosse il 1800 mi porta al mare ah quindi la serpe accetta ma la serpe cioè che striscia beh avanti ti pego mi paga cena e gelato e anche se di solito preferisco fare a metà mi dice cose così dolci che mi convinco che forse è la volta buona allora posso dittì la serpe amo totale non ti faccio sentire speciale facendomi pagare cioè ci sono altri modi per farmi sentire un oggetto ma non mi possederai con quel portafoglio posso dittì a me quando mi fai un bo il predatore perché mi paghi amo questo corpo ha uno scondino a parte però una volta ogni tanto batti un bo questo codice a barre facciamo i porcelloni e poi sparisce ok vabbè comunque vita mi incazzo come una iena ma lascio correre lui nei mesi dopo mi scrive boiate tipo che si era innamorato di me mi ha scritto a San Valentino e in tanti altri giorni delirando cose di questo genere mentre io io trovavo l'amore quello vero con cui sto da 4 anni e convivo sì lì ho pianto sì lì ho pianto e abbiamo un perro salsiccia c'hanno un cagnolino un perro salsiccia qualcosa mi dice con Bassotto l'anno dopo torno casualmente in discoteca però aspetta quanto è bello quando hai qualcuno che ti fa un pochino di brescio che nel mentre che magari si comporta un pochino da viscido che ti fa un pochino valorizzare la persona che stai scoprendo in quel momento che lui ha detto no c'è un amore c'è un amore sotto capisco il feeling mi aiuti il paragone l'anno dopo torno casualmente in discoteca e lo becco a provarci con una ragazza molto più piccola di lui e decido di prendermi vendetta e salvare un cuore innocente ma ma la serpe ma ragazza la serpe è la main character che tutti vogliamo mi faccio spazio tra la folla che poi non riesce a prever play perché scegli quella tossica la toxic totale cosa fa per salvare questa povera vittima innocente mi faccio spazio tra la folla vado verso di loro e faccio ma da quanto mi giro verso la ragazza attenta a questo ragazzaccio che prima ti scopa e poi ti dimentica lei povera già piccolina tipo 17 18 anni speriamo 18 perché se no amico palesemente timida mi guarda un po' disorientata però ascoltami qui adesso ci vuole una camera fissa sulla serpe che mentre mi gira col rallenti che lei sa di aver fatto la scelta giusta che ha salvato una povera anima e fa è il mio momento parte anche il monologo della sua coscienza e fa sì oggi hai fatto una bella azione amica non ho mai voluto essere famosa però quando capita e poi dopo un po' i suoi amici mi riconoscono e si fermano a chiacchierare con me e mi raccontano della versione che lui aveva raccontato a loro la cosa più bella è quando si devono salvarla faccia quando sono saldi scaricati adoro adoro tutto di quello di cui abbiamo parlato nella puntata è condensato qua dentro ma io lo smerdo facendo leggere tutti i messaggi che mi mandava prove le prove ragazzi la serpe è testata giornalistica ma sai che domani c'è tipo che ne so la repubblica c'è la serpe è tipo quello che è successo a saperlo prima in discoteca dalla ball quella centrale tipo anni 80 uscivano stampate le chat tutti quanti hai presente come si chiama quello con regina george min girls quando a un certo punto piovono tutte quante le fotocopie di lei che ha scritto steroia amo solo quello voglio la discoteca si chiama testimonianze pensavo testaccio stai e ho detto oddio ma la sa chi è no non sappiamo ha detto che a Roma è veramente zizio ho pensato poi butto un occhio in pista e vedo la ragazza che se la fila che se la fila mesta mesta infine quando siamo usciti dalla disco prendo un panino con la salsiccia ritorna il panino nel magico carretta abusivo di cui sopra e mi siedo sul marciapiede aspettando la navetta posso dire ma Pascoli che era uno stile descrittivo dov'è qui qui ci sta dicendo della salsiccia cioè che io sono lì a mangiare con la senape con serpe allora intanto le tue immagini tu ci evochi immagini e ci hai scritto così tanto che io ti amo sento qualcuno che fa toc toc sulla spalla mi giro e vedo la ragazza che mi fa ma tu sei quella della disco la ragazza quella che era stata salvata ok mi piace ma lei che chiamo che dice la disco anni 90 e mi dice che in tempo zero lui le aveva già scritto su insta e mi viene la magica idea lampante mandiamogli una foto insieme sì però posso dire la serpe ma che cazzo stai dicendo la serpe sta facendo la muta ci scattiamo la foto e con il mio bel paninozzo alla salsiccia e le faccio anche scrivere sono qui con quella che si è fatta anche il belloccio e lì l'amico esatto e lì la mia vendetta si è compiuta liberando anche la ragazza da questo malessere ps tuttora mi risponde alle storie vabbè che no vabbè no ti prego sono amici ah reperto fotografico c'è del materiale certo ve l'ho messo state scherzando no no c'è la foto della salsiccia voi dovevate vederla serpe serpe ma tu stai scherzando qual è la serpe e qual è quell'altra cioè secondo te si sono scambiati il panino amo io vorrei solo essere il panino qui cioè il panino sta vivendo la sua best life ma tu stai scherzando ma amo ti posso dire una cosa mi piace il fatto che la serpe abbia detto sai che c'è nella vita ci sono un sacco di ingiustizie tu non ve l'hai risparmiato stavolta mi piace perché non può essere sempre che dobbiamo far porgi l'altra guancia e scaglia la prima vita senza peccato io sono peccatrice e voglio che sia pure tu peccatore ma poi lei è proprio veramente la main character perché mi ha trovato pure l'amore della vita cioè nel senso lei nella disco stava salvando cioè lei era l'eroe capito in questo momento ma lei suona italo disco vai questa è l'unica verità serpe invitaci perché non so cosa cioè le serate con te cosa sono posso dire galeotto fu il panino con la salsiccia direbbe Dante questa è l'unica cosa che voglio fiorentina solo per la salsiccia allora abbiamo un'altra storia abbiamo un'altra storia questa volta di roxana con la x sono roxana solo perché mi sono tinta di rox amo ma posso dire te tu sei malmenata invece oggi solo perché mi hanno zizi esatto è una storia che risale a lontano 2014 e i soggetti sono il primo fidanzatino e quella che era la mia bff oh no 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 andiamo avanti andiamo avanti lui che chiameremo Gianfranco praticamente mentre era fidanzato con me lo era anche con un'altra e ovviamente io lo scopro dopo che gli diedi il mio frutto proibito amo posso dire pure io io pure ho dato il mio frutto io pure ho dato il mio frutto proibito a una persona che era fidanzata e posso dire è bruttissimo però posso dire se scrivi frutto proibito è la mia attenzione e quindi in generale anche se ti dico che c'è anche la storia non solo scrivi frutto proibito in un messaggio o mi scrivi penale di notte quindi la mia BFF Maura tra parentesi in nome finizio quindi abbiamo Gianfranco detto Gian e Maura detta Mau e Roxana che è la protagonista Maura mi si incazza che è la BFF di Roxana Maura si incazza con Gianfranco non con Roxana mi si ingazza con lo Gianfranco basico ma male mi si ingazza la Maura Maura ha 15 anni ma quando si incazza sembra un vecchio uomone di 60 anni e fa paura abbiamo tutti una Maura nella nostra vita sì ma anche un uomo di 60 anni posso dire dipende andiamo avanti andiamo un padre immaginate la scena del nostro incontro tra me e Gianfranco basico e la best dopo la famosa scoperta ah quindi qui ci sta facendo un presagio del Roxana Gianfranco e Maura all in the same room esatto il falò esatto un classico luglio romano 15 e 30 del pomeriggio 79 gradi percepiti un parchetto di un cantiere abbandonato dove non c'è ombra amo qualche appuntamento mio di Grindr potrebbe essere cominciato così di pomeriggio però Grindr è che l'ombra la fai poi dipende come ti metti da sudore però Gianfranco prova a dare spiegazioni amo sei un batito è un batito e un baterico Maura non glielo permette iniziando ad urlare cazziandolo come solo una brava mamma degli anni 60 può fare cazzo che la ciabattona allora la cucchiara eh però ci sta ma anche l'altro che ci stiamo però posso dire mi piace quando le amiche o gli amici intorno a te non si sentono in difetto quando se sono veramente in difficoltà mi piace che l'amico interviene ci sono determinate volte dove dico non intervenire perché non voglio che far vedere che ho bisogno di qualcuno però determinate volte se tu non parli a casa ti mangio quindi la pensavi come l'altra persona non mi hai difeso palese vai quindi gli dice che è una merda che maura al Gianfranco che è riprovevole amo io riprovevole io cioè tra smetto di letigare tra frosce e riprovevole quale ti fa più brutto no scegli frutto proibito riprovevole frutto proibito la parola che ti attira più l'attenzione frutto proibito ma perché fu il motivo per cui uno non mi morse frutto riprovevole perché c'aveva paura no di rimanere un po' ingastrato nel peccato e che è riprovevole e altre mille cose brutte che sinceramente non ricordo e Roxanne qui ci vuole un attimo di non è la sede mi ricordo solo una cosa lui ha una certa scoppia a piangere senza neanche provare a controbattere quando mi vai sulle lacrime lo so però se non sono se non sono lacrime vere ma lacrime che tu mi usi come un escamotace perché pensi che l'emotività non mi impedisca amo io sono in mood 3 no Gianfranco ha previsto il tutto ha previsto Sanremo 2022 e ha detto lacrime mie o lacrime tue eh ma Gianfranco non ti aspettava che Roxana mi venisse con la scorta eh Gianfranco me la fa il basico ma qui si è portata la mammo io e te quando zizi semmai litighierà con noi che spugniamo tipo ombre dietro che cosa hai detto? io sindrome della croce rossina fatta persona mi impiedotisco e mi avvicino a lui eh amo no c'è Maura che sta combattendo per te una battaglia noi il patarcato lo uccidiamo non lo alimentiamo via e che cosa ci continua ce la farò Roxana Ale ti consiglio di recattere un bollice ogni tanto e spam scappellotto da Maura che mi porta via cazziandomi come se fosse mia madre amo ma più Maury a questo mondo no aspetta ripeti nel senso che Maura quando mi ha visto che Roxana c'è avuto un momento di debolezza che stava da una carezza a Gianfranco Maura ha dato un'ambizione a Roxana totale dicendo di totale amo riacchiappati perché non mi piace Maura mia madre no amo mia sorella tutti 15 anni però e Maura eh Roxana sono contento che tu abbia una madre beh infatti esatto la cosa migliore della storia è quello che lega queste due sì esatto ok poi ognuno fa quello che vuole con i Gianfranchi della situazione però è bello sapere che hai delle amiche che sono pronte a supportarti amiche hai amici e Pameli e Pomeli amici amiche tizi tutti allora l'ultima storia che vi leggiamo oggi ce la scrive la Federica e non è la mano amica esatto me lo dico io che ne sai magari è stata la mano di qualcuno nel senso perché devi ipotizzare dai Federica sei altruista sono stato protagonista di una lite iconica sul piano internazionale adoro politica estera ragazzi qua ceci la sala era all'aeroporto di Mizza 6 e 30 di mattina stavo per partire con i miei amici per Barcellona io pazzissima ammo 70 di mattina soprattutto complimenti perché solo le gite di quinto ammo 6 in totale è successa anche una cosa divertentissima sempre per il viaggio per Barcellona ma non ve la racconto la lite è partita per colpa mia perché per pagare meno volevo far passare il mio trolley come un bagaglio a mano piccolo quelli che metti sotto il sedile questo è Daniele esatto ma come posso prendermela con la Federica cioè nel senso io sono marchigiano ho un braccino talmente corto che tra un po' divento smigol ma te pare è ovvio che lo capisco noi lottiamo otteniamo quello che vogliamo ma ai controlli mi scoprono questo è Daniele sempre e mi dicono che avrei dovuto pagare in più dopo aver pagato 58 euro io ho foto con la multa beccata foto col conti rosso io ho già inviperita mi dicono che il mio trolley sarebbe dovuto andare nella stiva con le valigie grandi nera a me sta cosa mi metterebbe anche perché non so che lo sai alcuni per alcuni il trolley è come il chihuahua non me lo togli deve stare vicino a me la mia trussa non mi togli la mia trussa no ma io ti posso dire se apro grinder in aereo e trovo che il pilota si vuole prendere un attimo l'automatico per farmi sentire un po' come l'ebbrezza del volo eh senti io devo sapere pilotare quell'aereo ti posso dire tutto quello che riguarda l'aereo l'aeroporto il viaggio le stazioni io lo prendo super a cuore cioè se tu mi dici devo mi levi il controllo sulle mie cose in quella situazione perché sai comunque sei vulnerabile capito e io smatterei amo ti capisco posso dire Alessandra una ragazza che lo prende di cuore vai la prendi proprio a cuore amo sotto l'aereo mi avvicino al tipo incaricato di mettere le valigie aggiuntive dentro la stiva il problema è che parlava solo francese e tu come fai in quel caso mon shake mon amour ti dico qualcosa a dire tu ci ti analisa mon amour amour ogni tentativo di dialogare in inglese era vano perché mi rispondeva solo con dei versi che mi sembravano inferculasse posso dire però è molto conosciuto dalla Francia parlare solo francese ma anche dalla Spagna parlare solo spagnolo la fortuna è che noi italiani abbiamo molta più possibilità di capire uno spagnolo di quanto possiamo capire un francese ah si ma poi capisco poi in una situazione del genere puoi parlare pure napoletano io ho attacco di panico la valige con moi io non ci ho visto più non con toi con moi l'outrolet io non ci ho più Daniele io non ci ho più visto da bravo italiano gay ripeto è Daniele ho cominciato a gesticolare con le mani in modo teatrale anche perché non so se lo sai la lingua dei gay è uguale in tutto il mondo se io sto schiacciando se io sto schiacciando me lo capisci anche in tutte le lingue cioè sono nera eccomi e a parlare in un incazzato ma sempre corretto inglese british se non puoi adoro se non puoi batterli comunque ferisci adoro tutto questo tutto questo ripreso dei miei amici mentre tutti gli altri passeggeri che aspettavano di imbarcarsi ridevano però posso dirti mi suona molto da una litigata in aereo io immagino solo quello te lo giuro o le carri che fanno elencamele elencamele quello era il treno però è vero le liti in aereo comunque hanno tutto un altro sapore sai perché perché mi sembra come un è presente quando tornando alle liti dove vorresti fare la persona che è che vede entrambe le parti il tramite quando volete bene tanto a entrambe le parti vorreste mettere in una stanza chiudere la chiave e dire dovete fare pace per me perché non voglio vedevi litigare quindi fa l'aereo è letteralmente un bunker cioè tu se litighi là è un non luogo o te butto di fuori ah ma tu oggi mi vuoi fare proprio tribolà comunque che ti devo dire Federica ha un po' di anger issues però la capiamo in realtà perché comunque noi dobbiamo avere il controllo su tutto figurati sui bagagli però la Federica quanto mi è stata anche polite che sapendo di essere ripresa ha anche cominciato a gesticolare così il fanculo era comprensibile anche in francese sordomuto esatto bravo cioè c'erano anche i sottotitoli altro che cenere a farla a sordomuti no hai visto quando fanno le esibizioni di Sanremo amo perché la Federica aiello se a sibuprofene no grazie la Federica pensava già al tiktok virale cioè ha capito lui era era oltre ok sapeva che sarebbe stato trasmesso in tutti i luoghi Nizza Zizi troppe zetta sta puntata io non vorrei che la Federica zizza zizza il vino io c'ho paura amo te lo dico qua si fa litigare contro pov mi sa che è vicino però che bello sapere che per quanto io amo il modo in cui i nostri amici e le nostre amiche scrivono perché hanno questo modo molto da pov cioè letteralmente è come se sanno a mandare un audio amo siediti ti devo fare non mandate audio solo perché se no veramente la Zizi mi diventa una manuenzia che comincia a datti l'ografa mandate scrivere è presente quelli esatto Edna Mood Style però boh mi piace il fatto che se ci fai caso poi sono tutte quasi tutte praticamente la prima sono da protagoniste cioè nel senso non sono liti raccontate da viste sono liti vissute ed è peculiare il fatto che quelle che magari ci hanno più cambiato non sono quelle che abbiamo visto e che abbiamo preso come un esempio da trascrivere della nostra testa ma sono quelle che ci hanno temprato in prima persona ma che poi se hai notato cioè noi facciamo la domanda sulle docce su le liti quello che ti pare ma in realtà quello che ci devono scrivere è un po' di drama cioè se loro la buttano sul drama con la parolina che noi abbiamo chiesto la consegna è rispettata e soprattutto si litiga meglio Razzuzzi cioè se la doccia non me la fa collegando docce e litigate se mi litighi Razzuzzo nel senso li dico più non posso ma quindi ringraziamo i nostri followers perché veramente ci regalano delle perle queste sono solo tre delle tante quindi magari chi lo sa la prossima potete essere voi ma più che altro raga che bello il fatto che cerchiamo anche un minimo di far valere la vostra voce perché comunque noi abbiamo cominciato il povero di voi con chissà se qualcuno ha piacere di farsi sentire e stai volvendo poi cambia con noi via quindi sappiate che qui ci sono queste due bocche pronte a commentare anche i vostri aneddoti oltre che a piangere dei propri personali e di ripeterli a go go magari col tempo leggiamo un po' meglio vediamo però ti posso dire quando hai imparato a leggere meglio con noi insieme ti ricordi quando? no tutte le domeniche alle 15 per un povero di voi e hai imparato ancora meglio tutti mercoledì alle 19 con un potevi non saperlo certo li leggiamo a bestia proprio però ti ricordi le classroom dove le si fanno? si spotify apple podcast e amazon music poi se volete delle classroom un po' private al di fuori un po' intime un po' tu per tu cozzizzi abbiamo instagram il podcast trattino basso tiktok uguale same nick che ragazzi possiamo dire su tiktok sta succedendo un po' di roba ci sono un sacco di amizi nuovi esatto che bello probabilmente le ultime interazioni che abbiamo avuto su tiktok ci hanno portato un po' di gente nuova quindi benvenuti a questo tavolo noi bevete con noi eccoci qua e soprattutto per chi è il primo povero di voi che sente ogni settimana intorno al martedì possiamo una storia dove vi chiediamo di raccontarci un vostro aneddoto continuo a fare così perché non lo so un vostro aneddoto dove è una citazione te posso dire la federica che gesticola col tipo ma mi chissò incalato quando mi sento parte dei nostri amizi facciamo una storia dove vi diciamo un pochino uno spoiler della puntata di domenica cosicché se volete raccontarci un aneddoto attinente all'argomento potete condividerlo con noi e noi lo commentiamo in puntata quello che è esattamente successo ora e Ale che ti devo dire è sempre bello ma anche un buona fatica io ti prenderei a botte oggi io mi andrei a struccare invece perché trucco? no lo che dici? barbatrucco barbatrucco